e sono aerei che si prendono alle 3 del mattino quindi il discorso che vale anche per il Napoli certamente, attenuanti, piccole attenuanti ripeto, il gioco c'è stato poi lo sappiamo, gli episodi se Osimena la butta dentro se Mertens usa quel termine che hanno usato spesso anche adesso in televisione cazzimma che sembra un po' sdoganato è quasi italianizzato però ti sottopongo, poi andiamo al telefono perché sicuramente c'è già un primo telespettatore in linea un altro dato su cui riflettere l'Atalanta di Gasperini è venuta qui secondo me anche abbastanza presuntuosa cioè con un atteggiamento eccessivamente aperto con la volontà dei difensori di rimanere molto alti e di andare a cercare il confronto con gli attaccanti del Napoli che se presi in velocità secondo me lasciano poche carte a chiunque o perlomeno a tantissimi degli avversari il Napoli è cambiato quando è cambiato l'atteggiamento degli avversari la Seda Alkmaar, la squadra olandese è arrivata qui e ha tenuto il Napoli a bagnomaria non si è esposto più di tanto quando ha avuto l'occasione ha capitalizzato e il Napoli ha pagato la scarsa lucidità brillantezza in zona gol mi pare che il copione si sia ripetuto con il Sassuolo e purtroppo Silver, scusa se ti interrompo è un light motive che purtroppo siamo destinati a rivedere con Cagliari, se non con il Torino e con le squadre che optano per questi saranno numeri ma quando si gioca col 4-5-1 o vuoi chiamare il 3-4-3 ma no, alla fine diventano 5-4-1 e così schierano il cosiddetto pullman davanti e poi spetta agli fuoriclasse allora insigne in queste partite è una presenza necessaria perché senza l'estro il colpo non puoi aspettarti la giocata da Bacaioco o l'imbucata da Fabian sì, per la legge dei grandi numeri le fanno anche però purtroppo si scardinano difese con giocate come quella di Insigne a Benevento infatti a Benevento Insigne ha preso il pallone e i compagni di squadra e ha vinto la partita è così e poi dopo sarà compito di Gattuso Gattuso che peraltro lo sottolineava in conferenza stampa post Sassuolo nel passaggio emblematico in cui dice ci toccherà inventare qualcosa perché noi cerchiamo sempre la profondità per favorire i numeri, le caratteristiche di Osimène ma ormai questo lo hanno capito tutti gli avversari quindi qualcosa di alternativo bisognerà pensare, inventare per aggirare il Pullman a cui facevo riferimento che sarà nessuno si deve offendere perché il Torino se viene a giocare al San Paolo ha un'unica arma per provare ad uscire il leso ed è quello dell'essere guardingo dell'essere attento e concedere poco chiaramente alle principali e soprattutto consentimi manca la soluzione sulle palle inattive si calcio d'angoli e punizioni devono essere sfruttate infatti non è ancora segnato mai di testa non abbiamo ma non abbiamo preso palle e traversa che prendevamo l'anno scorso non riusciamo a finalizzare sembra sempre che c'è quasi discordanza non si capisce se la palleggiano quasi quasi non ci sono delle gerarchie sui calci d'angoli sulle punizioni da destra a sinistra al centro incredibilmente forse ci manca Milik ma non penso che sia una però una carenza da poter legittimare come Milik oggi perché era l'ultimo che ha segnato le punizioni per il Napoli non per altro ma non possiamo con Mertensi e altri giocatori dotati di caratteristiche offensive anche dai calci da fermo abbiamo guadagnato centimetri con Bacayoko e non riusciamo ad avere un'occasione di testa siamo letteralmente sopraffatti sui cross da palle inattiva è vero anche questo andiamo al telefono vediamo chi c'è pronto pronto è caduta la linea ragazzi dalla regia sì chiedo scusa sono colpevole perché mi sono delungato ma i temi sono tanti e tutti interessanti ti chiedo Angelo quanto credi al fenomeno Milan quanto credi alle difficoltà della Juventus quanto credi all'andamento alternato anche questo dell'Inter perché poi sarebbero i tre principali rivali nella corsa allo Scudetto anche se Gattuso ha detto guai a parlare di Scudetto il nostro obiettivo è riguadagnare una posizione Champions è solo che è presto per tagliare gli obiettivi perché se tu tagli l'obiettivo Scudetto a fine ottobre e poi diventa diventa dura recuperare punti per la Champions invece siamo consapevoli che abbiamo una squadra che mai come quest'anno se la può giocare perché ritengo che il Milan sia destinato ad essere un fenomeno che prima o dopo pagherà Dazio sotto il profilo della fortuna io ho visto Udinese Milan devo dire che non ci sarà sempre Ibra a risolvere voglio dire la stessa la stessa rovesciata i nostri i difensori del Sassuolo si sono ben guardati dal far segnare il nostro attaccante invece Ibra da terra ci è riuscito ma al di là di questo penso che sia una 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 barca a vela che ha molto vento mediatico di Sky e delle maggiori emittenti televisivi per per far stampa e cassa giustamente in un periodo dove tra l'altro mancano all'appello non dimentichiamo che il Napoli è arrivato gli ultimi 7-8 anni quasi sempre davanti al Milan se non si sempre giudicando il campionato dell'anno scorso l'Inter secondo me è quella che sulla carta però ha i suoi problemi abbiamo scoperto che è Lukaku dipendente perché e stasera c'è Real Madrid Inter senza Lukaku ma il Santiago Bernabeu io 2 euro li metterei sulla goleada del Real Madrid al telefono c'è un telespettatore pronto ciao ciao sono Vladimir carissimo Vladimir ciao benvenuto come va mi dispiace che ha dato la terza corso però se l'ha meritato perché è stato poco lo sa che lì a porta però non è riuscito a segnare mi dispiace ma noi ci facciamo con Reggio quando giochiamo con Reggio giochiamo il Napoli ha la fortuna quelli del Napoli hanno la fortuna di giocare giovedì alle 18.55 quando saremo in onda regolarmente qui in linea calcio Vladimir ma secondo te il Reggio farà pure il Pumano secondo te sì le caratteristiche di quella squadra ci inducono a pensare questo però ragazzi c'è una differenza abissale tra la piccola squadra di Fiume e il Napoli che può Gattuso può veramente pensare all'alternanza che vuole diciamoci la verità c'è anche qualche caso covid nel Rieca nel Rieca infatti ne parlava Anastasio che questo ragazzo Pietro Anastasio che è il ragazzo cresciuto nel Napoli che gioca lì e hanno effettuato tamponi sono ancora anche lui sono in attesa dell'esito perché oggi ne parlava proprio l'allenatore del Rieca diceva con ogni probabilità mi toccherà giocare con i ragazzini contro il Napoli però questo è il calcio ai tempi del covid oggi ne parlava anche a Lega Andrea Agnelli presidente della Juventus Vladimiro vuoi aggiungere qualcosa hai domande? noi speriamo che facciamo un buon campionato arrivo in 3-4 in Europa lì che andiamo se andiamo avanti però se succede il 48 lo stiamo andando in gioco perché la squadra è molto forte quello della noi tutti dobbiamo andare a cada cosa ok hai fatto la sintesi perfetta di quelle che erano state anche le nostre parole amico mio ti saluto grazie per aver chiamato ciao sono tutti i ciclisti grazie grazie ciao grazie Vladimiro per aver chiamato la situazione sostanzialmente è questa pensando anche alle ah giustamente chiedo scusa e e Tony Iavarone attentissimo sta ascoltando Real Madrid Inter non si gioca al Santiago Bernabéu lo sapevo ma l'abitudine perché è in rifacimento ma si gioca all'Alfredo Di Stefano all'estadio Alfredo Di Stefano storico storico di Madrid grande attaccante tra i più grandi attaccanti di tutti i tempi a tal proposito sei in ansia per le condizioni di Diego abbiamo festeggiato e sui 60 anni due giorni fa poi ieri la notizia del ricovero perché ha un quadro psicologico ed emozionale particolarmente instabile chi gli è vicino ha raccontato praticamente di un Maradona che si è chiuso in se stesso ha perso la parola dopo aver festeggiato il sessantesimo compleanno e quindi ma c'è un bollettino del medico di fiducia che parlava di una sostanziale anemia dovuta all'atavico problema che un po' tutti noi over 50 abbiamo con la bilanza e quindi la dieta sembrerebbe aver chiaramente influito anche da un punto di vista psicologico penso che sia stata una delle persone più festeggiate nel mondo del calcio ho visto video incredibili di tutti i suoi compagni e compagni di squadra insomma voglio dire perfino Pelé gli ha mandato un messaggio veramente di cuore e non di circostanza quindi penso che sia rimasto frastornato anche per chi lo ha conosciuto e chi ha avuto la fortuna come noi di conoscerlo anche fuori dal campo nelle ipotesi sane ovviamente sa che Diego è un carnale un viscerale quindi non può essergli stato indifferente tutta questa tsunami di affetto che gli è piovuto addosso tu sai Angelo e poi torniamo al telefono dicendoti questo contemporaneamente prego la regia di trovarmi l'esecuzione magistrale di quel calcio di punizione che ha sfidato le leggi della fisica oggi è l'anniversario di quel calcio di punizione che fu decisivo il 3 novembre del 1985 la vittoria per 1-0 contro la Juventus Juventus che non perdeva da una vita al San Paolo ti chiedo se c'eri innanzitutto allo Stato c'eri distinti c'eri quindi cosa hai dato di matto quando hai visto il pallone entrare pioveva Silver pioveva e all'epoca i gradoni del San Paolo non erano quelli che sono oggi erano privi di sediolini era prima di Italia 90 e quindi si andava allo stadio a mezzogiorno partitore vecchio classico calcio delle 14 e 30 e purtroppo nonostante io fossi alto già da ragazzino era in un mare di ombrelli una scena esilarante di questa parabola e traiettoria che oramai ricordo live e offuscato perché penso che quella punizione l'abbiamo vista tutti quanti decine e decine di volte quindi io faccio uno sforzo incredibile per ricordarmela di averla vissuta live però era solo acqua ombrelli e poi se non ricordo male mancava un quarto d'ora al termine e quindi fu veramente il San Paolo che riuscì a ottenere il primo grande trionfo perché a Diego non dimentichiamo al primo anno fu chiesto quasi di salvarci esatto e come tutti ovviamente poi iniziamo questa cavalcata che ci portò del Tricolore ma il primo tassello fu quella partita è vero erano 20 anni che non si poteva la partita dove ti sei ritrovato al tuo posto dopo l'esultato immagino no molto lontano molto lontano spettacolo magari tra pochissimo la Juventus che era comunque forte come lo è quest'anno e speriamo tu prima mi hai chiesto cosa pensavo della Juve ti dico che sulla carta è vero che c'è la spending review e noi facciamo tutto il tifo che Pirlo possa essere un Ferrara bis cioè non il Pep Guardiola che fa il ticchettac ma che continuando così raggiunge un divario incolmabile con la vetta e speriamo di essere noi avanti però sulla carta diciamo che basta metterli in campo e possono trovare sempre soluzioni Morata devo dire la verità non credevo potesse avere un impatto nuovamente così determinante determinante un ottimo attaccante andiamo al telefono pronto pronto ciao Silve ciao Anna come stai bene benissimo Silve ti voglio chiedere una cosa prima di parlare di calcio voglio fare un abbraccio a Pierino ma la tua trasmissione di lunedì a me mi fa rimanere da bocca aperta perché io non è che capisco però bellissima mi spiegano tutto per fine per fine quella tua trasmissione è meraviglioso c'è i ragazzi del telefono che sono educatisti sono bravi senti Silve io ti devo dire una cosa Pierino ti ha messo su Facebook abbiamo fatto il gruppo e pure io sto in mezzo ho la tua foto su Whatsapp sei ingrandioso sei davvero un giornalista non dispensare dagli altri in gamba ti ringrazio adesso parliamo del Napoli domenica mi ha già pigliato una colla che tu non puoi mi sono sentita male ma lì adesso l'uomo quella pensiamo alle roba lì che puoi pensare il Bologna voglio sapere le condizioni che insegna e che si dice in bocca al lupo al mio Napoli un forte abbraccio a tutti di Canale 8 Pierini a te un bacio a Napoli forza Napoli grazie un abbraccio fortissimo ad Anna che di tanto in tanto spesso ci chiama da Avellino dalla provincia di Avellino dove ci racconta fa molto freddo ma lei si riscalda non solo con la forza del caminetto e del fuoco ma anche con la passione azzurra rispondiamo ad Anna Insigne sta benissimo si è allenato regolarmente con la squadra sicuramente sarà aggregato al gruppo che andrà a fiume non credo sarà rischiato perché sarebbe anche inutile diciamoci la verità e anche perché domenica la trasferta di Bologna sul campo della squadra di Mihailovic non è mai una trasferta anche storicamente Bologna non è che porti benissimo vince un tricolore e io c'ero eri anche a Bologna 4 a 2 3 a 0 facilo Sciù di Careca Careca Maradona il gol di Alemão e il Milan sotto Maior e Pellegrini cadeva a Verona cadeva a Verona la fatal Verona di nuovo fatale Milik mi chiedi di Milik sta da Dio perché oggi circola sui social la sua foto oggi si è goduto il sole nella sua location privilegiata posillipina fisico scultoreo forma fisica buon umore posso aggiungere una compagna di altissimo livello ti stringo la mano idealmente caro Angelo sono pienamente d'accordo con te però poi mi chiedo no a chi giova questa questa contesa la sua posizione che rimane ferma fissa e quella del Napoli di De Laurentiis altrettanto ferma perché a De Laurentiis non è piaciuto l'atteggiamento lo avrebbe voluto un po' più accondiscendente Milik alle proprie richieste e invece ora sono due partiti uno contro l'altro Milik che non gioca e che quindi mette in discussione anche il suo campionato europeo con la maglia della Polonia il Napoli che ci perde Soldini quando la sistemazione poteva essere Firenze io non voglio pensare sempre male però anche questa volta secondo me c'è lo zampino della Juventus dietro Milik aveva magari un accordo penso che sia di tutta evidenza anche se vi è un vecchio e atavico problema del sistema contrattuale del cosiddetto mobbing cioè in questo momento Milik ci ricorda un po' l'Edesma Pandev dell'epoca i laziali di Lotito e purtroppo a costo di un sacrificio economico deve passare il principio che una società che investe fa contratti a lungo e medio termine di solito De Laurenti non fa mai un contratto forse abbiamo l'eccezione di Llorente piccoli giocatori a fine carriera però normalmente 4-5 anni la durata di un contratto ci si investe non dimentichiamo quello che ha fatto De Laurentiis con Higuain l'Atletico Madrid sembrerebbe aver detto che uno scarto del Real Madrid che passava da Napoli non l'avrebbero potuto pagare meno di 20 milioni parliamo di la Napoli Lazio finita male non andiamo in centro rigore sbagliato tutti pronti a metterlo sul patibolo De Laurentiis ha l'intuizione di allungare il contratto e mettere una clausola magari forse fenomeno allora se passa il discorso io scommetto su di te vinci e te ne vai io si prendo la clausola ma se non mi dai quel che io penso di meritare come società due anni di infortunio non dimentichiamo due infortuni gravi gravi mai ripreso forse il vero Milik non l'abbiamo mai visto ci si aspetta certo un atto di riconoscenza non c'è stato non è un mondo per riconoscente lo sappiamo a tutti i livelli però non sono i 20 25 15 milioni che fanno la differenza oggi è il principio perché se passa l'atteggiamento Milik domani ci possiamo trovare un Fabian Ruiz ci possiamo trovare tutta una serie di calciatori in scadenza che invece devono sapere che volere o volare bisogna spaccare la mela in due e trovare un accordo sul prolungamento e sulle cifre del contratto e questo è un segnale non dimentichiamo che Insigne penso sia stato il giocatore che ha fatto più rinnovi in 5 anni in 5 anni ha fatto 4 rinnovi poi a un certo punto si è adeguato finalmente sto benedetto contratto però non si può tirare sempre la giacchetta di Laurez quando le cose vanno bene quando vanno male sono d'accordissimo con la tua analisi Francesco intanto scrive ci saluta e scrive io c'ero quel 3 novembre dell'85 ricordo le lacrime di mio padre al gol di Maradona e io ho la pelle d'oca perché non c'ero e quel 3 novembre però provo a percepire le sento le emozioni poi per forza rivedendo quelle immagini dopo le apprezzeremo ancora una volta se non sbaglio c'è una clip su Youtube questa è indicazione per i colleghi in regia poi andiamo in pubblicità con commento radiofonico di Enrico Ameri che racconta quella realizzazione incredibile di Diego Armando Maradona ovvero del più grande calciatore di tutti i tempi ci prendiamo Angelo una piccola pausa break pubblicitario e poi ripartiamo abbiamo già un amico al telefono quindi questa è linea calcio lo facciamo insieme pubblicità eccoci qui rientriamo in diretta 0815549988 con Angelo Vignola l'avvocato tifosissimo del Napoli stiamo stiamo raccontando stiamo parlando del momento che vive il Napoli di Gattuso contemporaneamente abbiamo sempre questo è il bello del Napoli sempre la porta aperta sulla Marcorn poi ci sarà lo Juventino di turno che obietterà sì ma solo due scudetti la Coppa Italia la Coppa UEFA ma veramente amico Juventino fidati te lo dice un torinista non abituato a vincere anzi non si vince mai ma i successi del Napoli portano di per sé il sole lo portano dietro lo portano ovunque perché era ne parlavo con qualche collega ai tempi di Maradona era la festa già andare allo stadio per partecipare a quella che tu già sapevi sarebbe stata la vittoria è vero o non è vero Angelo certo che sì una grande festa anche perché non c'è calciatore che di quel periodo che non ha raccontato le sue esperienze esempio Garella che aveva vinto uno scudetto a Verona pur contro diciamo il potere fra virgolette dell'epoca che c'era a Torino e a Milano Inter Milan e Juventus riferisce che è un problema di peso specifico in matematica il peso specifico significa una cosa è vincere a Napoli un'altra cosa è vincere altrove non a caso Diego lo rivendica sempre lo rivendica ancora e non a caso nelle sue poche dichiarazioni fatte poteva chiedere dopo la pandemia che l'Argentina vincesse un altro mondiale ha detto vorrei che il Napoli vincesse un terzo scudetto e beh ce l'ha riuscito con Sarri forse ce l'avamo quasi forse andiamo al telefono pronto buonasera buonasera Vittorio ciao caro Vittorio ciao buonasera una stessa di mano all'avvocato benvenuto fra di noi ricambio allora niente poi ti ascoltiamo ti ascoltiamo ma la lotta non stavo quando noi si hanno rubato le scudette quando si hanno rubato la supercoppa si avevamo dato un metro che hanno avuto le scudette a dosta le viste vergogna se mettessi scuola a che l'età se va ancora ma comunque poi volevo dire un'altra cosa dice che vogliono annullare il barra veramente e che da io che sono in posto la panchina che hanno le scudette la panchina che hanno le scudette la panchina che hanno le scudette no a Catania a Catania che insomma non vuole all'abito e poi nel senso che sarei la dici si mi ha ricordi questo qua è per i tifosi juventini napoletani ovviamente quando vincite una partita ho vincito uno scudetto per una nonna niente per cento anni non chiedevano a Maggiolina a prendere l'arena ma chiedevano una corsa fino a Taffiatorina a prendere la nebbia chiedevano una sospirata della nebbia non lasciate la città nostra che è la nostra non è la vostra voi non siete degli di dire sono napoletano non mi sto spiegando avete un coraggio da loro sono napoletano vergogna va bene ti saluto ne parliamo un bacio saluto all'avvocato buon attimo ciao 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 Vittorio beh su Marotta esordisci con Marotta caro Vittorio io ricordo un'intervista di Marotta subito dopo i fatti di Inter Juventus perché Marotta era direttore sportivo direttore generale della Juventus nell'anno in cui il Napoli di Sarri fece 91 punti dovrei avere ancora questa intervista da parte un cronista gli chiedeva a Napoli il Napoli alza la voce e insomma protesta per l'arbitraggio di Orsato e la risposta di Marotta fu molto chiara noi non siamo per gli alibi perché gli arbitraggi diventano alibi se messi così purtroppo ragazzi fa parte dei giochi lo dicevi anche tu prima Angelo cambi casata indossi nuovi abiti non solo ma all'amico di Marano voglio ricordare che cliccando su Google potrà mettere queste parole chiave eh sì è davvero Sampdoria direttore sportivo partite Chievo-Sampdoria e Siena-Sampdoria processo a carico di Bettarini marito dell'avventura c'è un coinvolgimento clamoroso di Marotta nella qualità di direttore sportivo della Sampdoria che però aveva già salutato era ai titoli di coda perché era già firmato in procinto con la Juventus per cui si è fatto un processo sportivo e penale a Napoli con un grande assente Marotta ognuno fa le sue valutazioni quindi proprio lui ci deve venire a fare la morale poi lascia la Juve non ci dice perché è un diciamo che gli ultimi dirigenti della Juventus da Bettega a Giraudo hanno tutti lasciato non hanno avuto il coraggio di non solo di rimettersi in gioco ma tammeno di andare dall'odiata Inter dall'odiata Inter non dimentichiamo che è un Juve contro tutti cioè non c'è non c'è una società gemellata in tifo non c'è una società che non abbia subito angherie sportive raccontate al Cagliari che cosa è successo raccontate ai tifosi del Torino scudetti persi la Roma la Roma di cosa vogliamo parlare l'esordio di Mazzola è avvenuto in un Juventus Inter 7 a 1 quando Moratti decise di mandare i ragazzini mi fate veramente rivoltare lo stomaco fu rigiocato una partita mandò in campo la primavera con Mazzola voglio dire è da sempre è così allora ci sta abbiamo detto i poteri forti la Fiat tutto quello che volete voi eccetera che però lui adesso piagnucola a Milano con l'Inter perché non le cose non vanno come lui come dice l'amico Ammarano fai con l'uva la trippa è giusto quello che dice è giusto o sciogliessi il Rosario allora sciogliessi il Rosario e raccontaci tu raccontaci tu pentiti ti difendo gratis vengo fino a Milano al Torino ore di verbale voglio sentire dalla sua fonte dalla viva voce della viva voce tutte le nefandezze sai cosa a conoscenza cosa penso Angelo penso che a perdere sia il calcio non a caso sia proprio il prodotto calcio perché cosa succede cosa sta succedendo in questi anni devo dire la verità proprio dopo lo scudetto che il Napoli avrebbe meritato perché il Napoli di Sarri era oggettivamente la squadra nettamente più forte nel campionato di Serie A in quella stagione lì ed era una cosa visibile a tutti indipendentemente dal tifo eccezione fatta per il tifoso juventino che non ammette è negazionista sul calciopoli quindi non si può sperare che ammette i meriti di chi è più bravo tantissima gente si è disaffezionata dal calcio quante sono state le disdette dalle tv a pagamento una marea una marea perché ne parlavamo prima durante la pubblicità anche le opinioni sono indirizzate e c'è da casa ci può essere quello poco attento o sprovveduto per vicende calcistiche ma c'è anche quello che ne capisce e che non vuol sentirsi preso in giro a perdere è il calcio quando a spuntarla non è sul campo la squadra più forte ma attraverso aiutini di vario genere ma adesso è anche ancora più forse comprensibile perché con gli abbonamenti si capisce che Sky non può che essere filo governativa o filo diciamo capitali economiche leggi milanite e altro ma purtroppo ce lo portiamo dietro tu prima parlavi della famosa punizione di Maradona se la senti forse la regia c'è riuscito voi noterete noterete che Ameri aveva la linea ed era in diretta e esultò coinvolto dall'euforia del San Paolo ma lui non era assolutamente un simpatizzante del Napoli era uno che qualche anno prima probabilmente il nostro amico Tony Avarone se lo ricorderà era uno che prendeva la linea dallo stadio comunale e diceva attenzione la Juventus è passata in svantaggio quando segnò il Napoli segnò il Napoli qualche anno prima non c'era il merito per la squadra che segnò e noi che eravamo lì appesi a una radiolina che ha detto rischio infarto per la Juventus quindi emozioni strozzate qua adesso vedo la regia che possiamo tornare indietro perché vorrei sentire anche l'audio ragazzi altrimenti è infatti e mi riporta anche alla descrizione che hai fatto dello stadio di quel giorno lì si andava all'imbrunire perché si era quasi prossimi alla fine della partita vediamolo vediamo attendiamo naturalmente che venga battuto questo calcio di punizione piede sulla palla la specie parte il tiro rete rete Maradona ha segnato magnifico calcio di punizione da parte della formazione della progettazione il Napoli è passato in vantaggio proprio a circa 27 28 minuti dall'inizio del secondo tempo e conduce così per una rete è da brividi ancora rivederlo ora a distanza di tanti anni bellissimo torniamo al telefono torniamo ah no no per chiudere Vittorio si riferiva al fuorigioco le cose la regola del fuorigioco che è l'unica oggettiva oggi assieme alla goal line technology vuole essere messa in discussione la regola del fuorigioco ha 94 anni nel momento in cui non ti vanno bene le cose e si sente dire dai canali televisivi più o meno importanti sì ma effettivamente un centimetro cosa cambia cosa cambia c'è una regola Silberlà e il discorso è sempre per chi vuole vedere il bicchiere mezzo vuoto come lo vediamo in tanti purtroppo è con la line technology non c'è margine di errore c'è solo il rammarico del centimetro più il centimetro in meno la luce o non la luce dare una novella legislativa a questa regola significa aprire la discrezionalità se si riapre la discrezionalità noi oggi avremmo morata capocannoniere della serie A e capocannoniere della Champions League e la Juventus prima in classifica allora questo si vuole questo si vuole perché purtroppo lo stesso episodio per anni è stato letto in alcuni stadi in un modo e in altri stadi in altri eh sì torniamo al telefono pronto? pronto? sì ciao Silve sono Antonio Ciao Antonio benvenuto ormai ci sentiamo quasi tutti i giorni ho la fortuna di prendere mi fa piacere vorrei passare vorrei fare una battuta e me la concedi non ridere con l'avvocato se dopo cinque giornate abbia bisogno dell'avvocato sta macchissimo intanto per ribaltare la sentenza mi auguro che il collega Mattia Grassani che ho avuto il piacere di conoscere in alcuni processi sportivi non lasci nulla di intentato nulla al caso no allora io devo dire la verità io vedo tante trasmissioni perché sono un vecchio del calcio ho seguito di Napoli di Altafini Maradona l'abbonato quindi non ne parliamo ti vedo molto competente questa è la verità e devo dire la vita è intelligente è furbo perché prende sempre persone che stanno a parli di calcio noi sti quattro cialladani che non capiscono niente è un bel complimento ti ha fatto ti ringrazio ma è la verità perché non avremo di non ci conosciamo quindi non faremo motivo non mi ricordo quindi figurino poco sono un poco alzheimerato allora veniamo un po' al calcio io vorrei dire una cosa è possibile che dopo cinque giornate di cui quattro diciamo buone strepitose per me Atalanta pure Benvenida ha fatto una buona partita io ho sentito perché ti ripeto devo girare i canali e seguire gente che ha criticato Gattuso per le scelte prima della partita tutti quanti eravamo tutti che aveva fatto una buona un'ottima formazione a fine partita Gattuso non capisce quasi niente addirittura si è paventato il nome di quelli che è andato con i colorati e lasciamo bene io dico una cosa lasciamoli giocare facciamogli fare quelli che sanno fare bene non pensiamo sempre al passato oppure a quando quel personaggio che ci ha lasciato lui non l'abbiamo mandato lui se ne è andato dove è andato e ha fatto la finca pensiamo a Gattuso è un grande un grande uomo è un uomo del sud è uno che dopo la partita io sfido chiunque a perdere una partita come l'ha perso il Napoli e a parlare serenamente un sanguigno come lui io sono sanguigno pure io io mi sarei incazzato lui non si è incazzato ha parlato ha ammesso la sconfitta ma che vogliamo più dimmi tu ha perso una partita ma non è la fine del mondo abbiamo avuto un gol annullato per millimetri perché no si mette per millimetro no non abbiamo discusso non abbiamo fatto come loro subito cambiamo i regolamenti quindi voglio dire l'avvocato me ne dà man for abbiamo visto i grandi Napoli questo è un grande Napoli poi arriviamo primo secondo terzo non è importante dobbiamo essere legati ancora di più perché Silvere e Tunei sei un grande testimone anche ieri sedi ti ho seguito un poco con Carlo Albini che mi fa piacere rivederlo sempre questo si diceva pure con Montervini c'è il Napoli ha un gioco c'è l'angolo è inutile che ci vogliamo girare intorno c'è un grande gioco purtroppo ha avuto una giornata un po' negativa però ragazzi io vi sfido quattro palle con noi li abbiamo avuti nitide nitide ho sbagli però non voglio no no non sbagli complimenti veramente di cuore spero di non incontrarci mai in tribunale sempre buona sera Silvere ancora complimenti grazie grazie Antonio per aver chiamato simpatico ti posso chiamare collega perché hai fatto una difesa ovviamente ampiamente condivisibile voglio dire fortunatamente i passi falsi del Napoli sono ancorati a un problema di risultato e non di gioco perché voglio dire se finisce 0-0 1-1 con una squadra che probabilmente darà filo da torcere anche ad altre in era covid senza che il fattore campo può incidere più di tanto diciamo che ci sta ci sta non possiamo vincerle tutte per per arrivare ci sta anche che avessero realizzato le occasioni anche abbastanza facili che hanno avuto all'inizio la partita sarebbe cambiata è chiaro io sto usando troppo il se con i se i ma non si fa la storia non si fa neanche non si rifà la partita di calcio però pesano anche gli episodi parlava di Gattuso il nostro amico dopo una sconfitta è facile dire sbagliato la formazione è lo stesso Gattuso che però a detta di tutti o quasi era stato praticamente quasi impeccabile in questo abbrivio di stagione non penso che possa farsi nessun addebito è comunque un campionato particolare con una diciamo schiera di squadre che mai come quest'anno sono c'è un livellamento verso il basso diciamo così perché la Juventus e l'Inter e anche la stessa Atalanta e Lazio non stanno correndo come noi abbiamo un punto sulla carta in meno dell'anno scorso potenzialmente di meno però siamo lì siamo lì e dobbiamo insistere dobbiamo insistere su questo su questo schema io penso che le squadre camaleonti che non vanno molto avanti deve avere un'identità deve avere un'identità il il nodo cruciale a mio avviso non è gattuso è la fascia sinistra che purtroppo pur avendo avuto Isai che ha fatto una discreta partita quando giochi col 4-2-3-1 è fondamentale come fanno tutte le squadre che fanno questo schema che la palla poi arrivi sulle fasce e partono i crossi tra persone purtroppo Isai è un è un giocatore che non può giocare nella parte opposta del campo cioè mentre Insigne e Politano giocano al cosiddetto piede invertito penso che i tersini devono essere mancini quelli che giocano a sinistra e mi riferisco a Mario Rui e a Goulam e destro non voglio aprire il capitolo Goulam perché altrimenti dovremmo fare un tempo supplementare di questa trasmissione perché veramente è incomprensibile tutto ciò che è accaduto e non si sa cosa veramente sia Goulam per noi un oggetto misterioso e ripeto purtroppo poi paghi lo scotto che Di Lorenzo inizia anche lui a tornare a livelli umani perché è stato stratosferico penso che il giocatore che abbia fatto più partite ha giocato sempre e quindi inizia a perdere anche lui qualche colpo ha fatto il rigore e ha fatto una prestazione forse è stato tra i peggiori se non il peggiore tra i peggiori in campo e quindi poi è un calcio che non ti perdona nulla e può succedere e può tranquillamente succedere facciamo così abbiamo il break pubblicitario poi di rientro ti ascoltavo Angelo quando facevi il parallelo dei punti il Napoli ne ha uno in meno rispetto allo scorso anno di questi tempi però siamo lì ed è quello della penalizzazione è il meno uno è fra l'altro di che cosa parliamo? ti chiederò dopo la pubblicità come può finire la vicenda Juventus-Napoli se può finire in ambito sportivo o credi sarà necessario andare oltre per fare giustizia per far prevalere il buonsenso dico così ne parliamo dopo la pubblicità ed eccoci qua torniamo quando sono le 18 e 51 minuti stiamo facendo Linea Calcio 0815549988 per intervenire in diretta Angelo Vignola l'avvocato Angelo Vignola è il nostro compagnia sei stato già adottato hai sentito dalla famiglia di Linea Calcio questo è un orario particolare però diciamo che abbiamo tantissimi amici che ci seguono tanti tifosi che hanno scelto questa parentesi per distrarsi perché è giusto perché i problemi sono tanti così come tanti sono ancora i casi di contagio al covid abbiamo visto il bollettino che è stato diramato dalla protezione civile poi attorno alle 19.05 apriremo come di consueto una finestra sulla nostra redazione per carpire anche anticipazioni sull'edizione del Tg però stiamo parlando di calcio e ci fa enormemente piacere prima di andare al telefono e prima della pubblicità avevo detto Angelo come può finire la questione Juventus-Napoli per lunedì attesa la sentenza in ambito sportivo può chiudersi nel senso il Napoli può riottenere la possibilità di giocare la partita e soprattutto di alleggerire la sua classifica da quel punto di penalizzazione che per ora stride francamente allora per quella che è la mia esperienza in questa materia molto affascinante ti dico Silver che il banco decisivo è quello della CAF Corte di Appello federale organo di giustizia sportiva di secondo grado chiamata a riformare speriamo o a confermare la sentenza del giudice sportivo Mastrandria tutto il dopo coni non 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 ci darà gioia o soddisfazione a breve né tantomeno penso anche la giustizia amministrativa con fra l'altro la violazione della clausola compromissoria cioè quella clausola che tutti i tesserati firmano ovviamente De Laurentiis non è esente allora quando agisce in sede ordinaria è solamente per un potenziale risarcimento danni ma che ovviamente lascia un attimo un po' il tempo che trova sono fiducioso sulla tempistica delle mail e sulla sulla strada maestra cioè quella della forza maggiore penso che il collega Mattia Grassani abbia tutti gli elementi per ribaltare anche mi auguro col presidente Sandulli che ha fatto una piccola diciamo disgressione che sembrerebbe aver lasciato adito a un problema di ricusazione per i non addetti ai lavori sta a significare che correttamente un giudice in qualunque sede civile penale amministrativa sportiva non deve mai anticipare quello che è il suo orientamento anche per una vicenda in carattere generale già mai nel particolare sembrerebbe però che è fondamentale sotto questo profilo la non costituzione in giudizio della Juventus come parte interessata allora se io fossi l'avvocato della Juventus diciamo sarei contentissimo da tutto il profilo ecologico voglio dire etico morale mi sentirei un po' a disagio vedi un po' quello che è successo per il nostro caro amico Mangiaorecchi Sanchez ma al di là di questa parentesi nella parentesi dico la prima cosa che farei eccepirei e ricuserei la figura del professor Sandul quindi ovviamente la mancata costituzione in giudizio della Juventus lascia un ampio margine di accoglimento del ricorso del Napoli perché ovviamente un nuovo giudice sarebbe ovviamente anche qui una una soluzione estemporanea improvvisata e non mi lascerebbe tranquillo io immagino che il professor Sandul è una persona al di sopra di ogni sospetto ha fatto una piccola leggerezza nell'anticipare un suo giudizio ma ovviamente se resta nella commissione potrà far valere la sua esperienza e come tale potrà diciamo lavorare su questa materia che è nuova perché la giustizia sportiva non dimentichiamo lavora sui precedenti sulle norme sulle vecchie e qui non ce n'era qui non c'è precedente quindi si deve fare giurisprudenza cosa vuol dire giurisprudenza dal latino vuol dire esprimersi per la prima volta fare precedente e quindi è una pietra miliare soprattutto se il covid non ci abbandona e quindi penso che sia fondamentale ripeto per tappe la mancata costituzione della Juventus come terza interessata e la compagine della CAF nel collegio madre nel collegio istituzionale possa affrontare con serenità e portare una sola e ovvia conclusione quella sera motivi di forza maggiore hanno impedito la partenza del Napoli poi ognuno ho sentito dire di tutto che peccato che non sono risultati altri giocatori positivi è tutto una cornice il problema serio dal punto di vista giuridico è forza maggiore e le mail cantano e parlano con orario ora minuti e secondi è vero è vero la ricostruzione è questa è stata anche la nostra aspettiamo chiaramente il giudizio andiamo al telefono vediamo chi c'è pronto pronto buonasera Silver forza Napoli sempre caro Pierino buonasera a te ben trovato e grazie per la tua amicizia per la tua simpatia per le attenzioni che assieme a Pietrangelo Chietchia Pietrangelo Presidente del Napoli Club Udine mi dedicate grazie no ma te lo meriti saluto all'avvocato e volevo dirgli una cosa avvocato io non sono tanto tranquillo di questa tendenza che verrà perché le spiego questi stanno perdendo su tutti i fronti sia finalizzatamente sia in classifica stanno perdendo soldi a palate quindi non si possono permettere di fare una brutta figura in tutte le situazioni in cui sono implicati l'ennesima perché guarda Pierino come siamo messi se Angelo con giusto tempismo non ricordava che c'è un'altra vicenda sulla quale non si lavora anche la procura sportiva ma lavora soprattutto la procura della Repubblica di Perugia che è quella del pistolero sembra che anche quello sia passato ormai sotto traccia e finito nel dimenticatoio ma quella è una vicenda estremamente grave quella di Perugia è una vicenda estremamente grave che solo in Italia secondo me si riesce a far passare sì vabbè ma non c'era la volontà non c'era l'intenzione c'è uno che si era pagato lungo aereo allora c'è un attaccante tra i più forti al mondo che prende l'aereo con biglietto da 12 mila euro da Barcellona per arrivare a Perugia per sostenere un testo un esame perché aveva una voglia matta di ottenere la cittadinanza italiana poi finisce risale sull'aereo e se ne torna a Barcellona sfortuna cosa vuole che la guardia di finanza dal mese di febbraio intercettava intercettava ma voglio dire una cosa all'avvocato ma lei secondo me qualche causa la perderanno questi qua è vero questa è una domanda che ci sta allora io da avvocato dico sempre che quelle che mi fanno paura sono le cause vinte perché la causa persa è causa persa casomai la vinci o la ridimensioni è un successo per tutti anche per il professionista io ritengo che sulla carta quella del Napoli potrebbe essere una sentenza già scritta positivamente anche perché devo essere sincero sono amico e conosco da tempo per aver partecipato a varie procedure di carattere sportivo l'avvocato è di chiacchia che nonostante ha avuto un rapporto conflittuale con il nostro presidente per le famose vicende legate al mancato ripescaggio dalla serie C alla serie B ciò nulla toglie al professionista e all'avvocato che ha guidato il Napoli con un sommergibile senza far danni mi riferisco alla vicenda di Matteo Gianello Grava e Cannamaro e lì c'è stato un lavoro d'equipe un lavoro certosino fatto anche con ovviamente l'ottimo collega Mattia Grassani e allora dico se Eddie si sbilancia in maniera positiva io non posso che di fronte al suo giudizio esternare lo stesso convincimento positivo però ovviamente 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 temo purtroppo quello che tu dicevi e ovvero questa neanche la Ferrari mette più una scopa ragazzi questi arrivano ai tredicesimi quattordicesimi alle prove libere sembra una congiura sembra una congiura allora che fine ha fatto il potere Juve si manifesta qui una cosa la voglio dire tutto mi tolgo il cappello davanti all'avvocato Cassani ma a me mi pare l'avvocato di causa persa perché ne avesse vinta uno di causa di qualunque causa del Napoli noi ne abbiamo mai vinta uno speriamo che stavolta mi sbaglio mi tolgo anche la maglietta cappello scarto bambini se ci fa vincere questa diciamo almeno dite in classifica questa è la cosa che mi fa allora diciamo che la corte d'appello federale tra altre cose è chiamata prima a dirimere la controversia di Verona Roma e a questa causa verrà data un'udienza ad hoc quindi non saranno trattate contestualmente e devo essere sincero ho fiducia ho fiducia perché se non abbiamo fiducia ragazzi dobbiamo solo abbandonare Verona ha dato la sentenza però consentimi completo il pensiero se no resta un attimo monco Verona Roma si tratta di stabilire se omologare un 1 a 1 o confermare un 3 a 0 a tavolino è una cosa ben diversa qui la corte d'appello federale deve sostanzialmente ridarci il punto di penalità e dire rigiocate la partita giocate giustamente dice Silvio giocate la partita e a quel punto ovviamente lo sappiamo a Torino non è una passeggiata quindi rigiocarla potrebbe essere anche un'iniezione di fiducia non vedo diciamo il come diceva Murigno il tambureggiare del nemico anche perché diciamo che forse Agnelli ha tradito l'aspettativa di De Laurentiis allora quando gli è arrivato il messaggio rinviamo però alla fine ragazzi bisogna entrare nell'ordine di idee che Agnelli e De Laurentiis sono due vecchi volponi non a caso senza l'appoggio di De Laurentiis e ad altri Agnelli non sarebbe stato eletto presidente dell'Eca quindi potremmo scrivere fiumi di parole quindi non facciamo i soliti tifosi beceri che vediamo diciamo l'osco e marcio ovunque diciamo che alla fine può darsi che questo atteggiamento della Juventus sia ripeto l'autostrada che porta a giocare finalmente questa bella partita e a cancellare quelle bruttissime immagini che hanno fatto in giro del mondo sì perché poi quando Pierino vengo da te per salutarti quando vedi cioè se la nostra cultura deve diventare quella di quel ragazzo che va allo stadium sapendo che la partita non si giocherà e esulta così perché arriverà il 3 a 0 a tavolino allora noi della cultura sportiva non abbiamo assolutamente niente Pierino che dici? no sì io volevo dire una notte all'avvocato avvocato come dice Mario Mello come chiamava Mario Mello ma qualche dubbio ce l'ha anche lei cosa? allora i dubbi i dubbi ci sono perché altrimenti dovremmo inserire dei dati in un computer no poveri quelli però è certo che ce le ho è certo che ce le ho ce le ho perché comunque diciamo che la vicenda è un po' particolare volendo andare a spaccare il capello in quattro il Napoli comunque come aveva fatto il Genoa poteva chiedere un disferimento di orario per consentire un ulteriore tampone c'era la possibilità di spostare sono le società che organizzano i voli sono a disposizione delle società e quando si giocano i tempi supplementari non è che la squadra perde l'aereo il charter si sa che il contratto prevede la possibilità di slittamento anche di 24 ore se ci fosse stato per esempio avverse condizioni meteorologiche e partita rinviata a lunedì non è che il Napoli non andava perché non c'era più l'aereo quindi voglio dire forse un po' di buonsenso all'epoca è mancato però questo ripeto rappresenta sempre la cornice del quadro il quadro parla di una Juventus che si presenta in campo con anche i tifosi che festeggiano e noi stiamo a Napoli quindi mancanza di accordo all'epoca che poi era tutto da valutare si sarebbe aperto un altro scenario perché onestamente ripeto è un caso unico primo è il primo non dimentichiamo che ci sono tanti interessi in gioco una volta c'era il totocalcio adesso ci sono le scommesse ci sono le tv ci sono le cose le società quotate in borsa le società quotate in borsa Agnelli e De Laurentiis si mettono d'accordo per non giocare non so cosa potrebbe suscitare nell'idea della procura federale giustamente poteva scattare una penalizzazione per entrambe le squadre certo e voglio dire lo scenario è quello là lo conosciamo non ci ritorniamo ma anche Silvio l'ha fatto trasmissioni su trasmissioni però sostanzialmente io ovviamente temo temo che possa non ribaltarsi la sentenza è fondamentale mi sono dilungato grazie avvocato per la spiegazione è stato esauriente Pierino un abbraccio forte ciao grazie grazie per aver chiamato allora facciamo così ci colleghiamo con la redazione o andiamo in pubblicità amici? prima in pubblicità facciamo una piccola pausa e poi dopo andremo da Nunzia Marciano in redazione per avere anticipazioni sul Tg che regolarmente partirà alle 19.30 da Palinsesto qui su Canale 8 pubblicità grazie buon lavoro appuntamento con il Tg a partire dalle 19.30 mi fate per cortesia dalla regia vedere la proposta di discussione che ha il timbro di Canale 8 sulle nostre pagine social realizzata da Arturo Minervini perché è tornato a parlare di Napoli Carlo Ancelotti e sai ti dico la verità Angelo io sono sempre convinto che prima o poi magari non succederà domani magari non succederà tra un anno magari tra tre anni si riuscirà a capire un po' di più delle vicende di quello che è successo in questo rapporto che è nato chiaramente con grandissime attese non fosse altro perché il nome era quello di Carlo Ancelotti cioè dell'allenatore più vincente che c'è in circolazione per le dichiarazioni di De Laurentiis poi abbiamo visto come il corso sia stato poco fortunato si sia arrivati perfino all'ammutinamento del 5 novembre e credo ad una decisione non più rinviabile di De Laurentiis di chiudere il rapporto con Ancelotti cui è andata benissimo perché comunque quello che guadagna all'Everton può star bene lui il figlio penso le 6-7 generazioni che verranno ma già da prima ma già da prima giustamente come dicevi voglio dire un calciatore che ha una carriera alle spalle adesso non sta a me rivalutare le lire in euro ma ha giocato con squadre come Milan e Roma ha allenato società importanti in giro per l'Europa penso che lo stimolasse l'idea che Napoli potesse essere un trampolino di lancio anche per la carriera del figlio nessuno gli contesta non è un problema che Davide Ancellotti dirigeva tanti allenamenti in sua assenza e che come fa legittimamente un padre o un figlio gli apre una strada il problema è che devi avere la consapevolezza del materiale che hai a disposizione a me dispiace dirlo sarà la pandemia ma quando vedo le partite dell'Everton vedo una panchina lunghissima Carlo Ancellotti con il suo secondo che non è Davide no non è Davide mentre ha parlato di Davide in un angolo della tribuna vedi con un computer uno che assembla dati su passaggi statistiche ed è Davide Davide Ancellotti è stato comunque messo ai margini del progetto Everton ora scopriamo che si è laureato in Germania col massimo dei voti in scienze motorie fisiche e quant'altro però voglio dire è cosa ben diversa allenare e allenare soprattutto a Napoli purtroppo penso che l'esperienza di Ancellotti è partita bene campato di rendita c'era l'eredità sarriana no? sì e poi si è dovuto arrendere all'idea che era difficile gestire molti molti giocatori e già a Monaco diciamo la verità è stato fatto fuori dai senatori dei senatori certo ora mi domando e dico come è possibile che nell'era moderna nell'era telematica dove abbiamo tutti un contatto facebook whatsapp social non c'è un gruppo di squadra devo ritenere che quella sera mi riferisco ovviamente all'ammutinamento Ancellotti si è recato a Castelvolturno e voglio anche capire che la partita non era andata per il verso giusto perché non eravamo matematicamente ancora qualificati o altro e si stava diciamo mettendo male arrivi a Castelvolturno non trovi la squadra ma che fine ha fatto la squadra un contatto non dico con Insigne col capitano ma in un gruppo ma che state facendo ragazzi guardate che state violando le norme da contratto e a quel punto se la squadra fosse arrivata anche alle 4 del mattino non sarebbe successo tutto il casino che è venuto fuori il casino che è successo e diciamo la verità adesso ritornando al discorso Milik ed altro De Laurentiis vuol lungi da me fare il difensore di ufficio di De Laurentiis ma vogliamo un attimo metterci nei suoi panni cosa deve fare cosa avrebbe dovuto fare cosa avrebbe dovuto fare adesso ecco il radio teleascoltatore di prima le cause quella è una causa secondo me persa viene sfruttata quanto più possibile da Ancelotti ecco per i casi Milik che non dimentichiamo che nella famosa trattativa con la Roma al di là delle condizioni di salute che forse lasciano ancora qualche perplessità nonostante l'idoneità sportiva agonistica rilasciata però la Roma ha mandato a fare visite mediche da uno specialista che sembrerebbe aver scritto una cosa ma aver detto nell'orecchio un'altra tant'è che la Roma sembrerebbe aver drasticamente ridotto l'offerta i bonus e quant'altro e poi ce la fanno passare come come storia legata ai bonus alle multe però voglio dire è un mondo è così è un mondo dove oramai abbiamo imparato che non si fa nulla per nulla è vero è verissimo vediamo al telefono chi c'è pronto pronto? sì buonasera Mimmo caro Mimmo benvenuto ciao buon saluto anche l'avvocato al quale dico deve essere abbastanza sintetico perché per l'orario eccetera eccetera però vorrei dire avvocato io forse non ci rendiamo conti che qui si è scomodato nel titolo quinto della Costituzione un presidente di un'asola oggi vale più del ministro della sanità speranza cioè non ha significato fare questi ragionamenti perché il titolo quinto della Costituzione 17 anni fa a colpi di maggioranza è passato che le regioni hanno potere assoluto nell'ambito sanitario e allora io faccio la domanda più semplice di questo punto loro per far il ministro Spadafora e il ministro della sanità che hanno firmato il 18 quella carta straccia di protocollo dico carta straccia perché chi era assente a quella a quella cosa erano le regioni erano loro che dovevano firmare il protocollo e nel momento il potere che hanno tanto è vero che Spadafora e Speranza a quel punto nello scrivere quel comunicato si sono chiamati fuori hanno detto fermo restando che per causa forza maggiore decidono le altre locali lo hanno scritto in quel protocollo sportivo quindi è lacunoso al massimo quel protocollo cioè io faccio una riunione con domini uno non viene e dica però Pasquale dopo tutto quello che abbiamo fatto non significa niente se Pasquale dice che lui non è d'accordo caro Mimmo caro Mimmo tu hai inquadrato perfettamente il problema e cavalcando il tuo esempio ti dirò di più a noi è successo esattamente facendo il parallelismo con le riunioni di condominio che noi abbiamo preso il regolamento di condominio del palazzo a fianco e abbiamo cercato di farlo nostro è chiaro che il condominio a fianco ha tutte altre problematiche che noi non abbiamo e quindi diciamo la verità non sono delle eccellenze di diritto né Spadafora né Speranza negli altri e abbiamo ereditato e preso senza mutuarlo e senza fare il vestito sulla nostra misura quello che era il protocollo sostanzialmente UEFA ma soprattutto inventato tra virgolette dove nel primo campionato che ha ripreso che è la Germania e noi ci vogliamo paragonare la Germania e l'ASL di Monaco di Baviera non so neanche se esiste esisterà un organo sicuramente equipollente mi perdoni sì allora noi quello UEFA non lo possiamo proprio a portare ad esempio perché ognuno nella sua nazione ha leggi diverse quindi consentitemi di dirvi che a parte la Germania che decide con il Lender e quant'altro ma gli altri sono statali nei 26 paesi europei sono la sanità è statale dello Stato noi qui abbiamo creato le condizioni proprio perché a noi sta roba qui in Campania e nel tutto è costata 40 miliardi perché nei trasferimenti delle risorse il ministero a Roma ha solo il compito di dividere le risorse pro capite un cittadino lombardo o piemontese vale 49 euro noi 19 nell'arco di 17 anni ci abbiamo perso 40 miliardi e Napoli e la Campania in modo particolare ha pagato con il commissariamento della sanità 10 anni e un miliardo e mezzo di debiti perché vostri i debiti ve li ripetofagate voi quindi torniamo alle origini diciamo le cose come stanno noi ci troviamo a che fare subito dopo questa pandemia a fare una legge che ritorni allo Stato e tolga alle regioni questa porcheria perché la Costituzione è una cosa seria ed è la più bella del mondo e non poteva Berlusconi bossi e fini stracciarla al punto tale da toglierla invece di una sono diventate 20 19 regioni più 30 e bolzani fanno 20 quindi noi abbiamo 20 sanità che hanno distrutto la medicina ma questo è un altro ragionamento ne potete parlare per una mezza giornata ma io entro solo nel merito sportivo quel protocollo il 18 giugno con quella situazione serviva solo ed esclusivamente a far ripartire il calcio ma poi si doveva lavorare molto 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 quindi io ne aspetto il giudizio amministrativo io dico pigliate quel fogliette e fate un coppetello per le olive perché quel presidente quella sera sabato sera il presidente di regioni e l'asda regionale si poteva tranquillamente bloccare chiunque io non voglio io mi auguro che la giustizia sportiva per una volta torni nella legalità perché poi lì bisogna che il ministro Spadafore chiudo prenda per mano questa situazione perché la procura federale non può essere eletta dalla PGC c'è uno spaventoso mostruoso complizzo che ha fatto fuori Pecoraro e ha messo Mattandria perché Pecoraro è stato fatto fuori io potrei parlare per un'ora e mezzo su questa roba Mimmo sei stato chiarissimo e ti dico le Iene non a caso da poco ebbe assolutamente poi è un discorso comune a tutte le federazioni sì va bene dobbiamo fermarci abbiamo il break pubblicitario l'ultimo e poi torniamo per salutarci pubblicità ah no siamo proprio in chiusura ah chiedo scusa ho sforato è stato piacevole il tempo che ho trascorso con te che addirittura sì ho saltato la sigla chiedo scusa ai colleghi anche all'emissione e ad Angelo Vignola ti aspetto qui Angelo vieni a trovarci è sempre un piacere Silver grazie molte grazie davvero saluti a tutti i telespettatori ci fermiamo le news con Nunzia Marciano appuntamento